E' per Francesco Bellavista Caltagirone la richiesta più pesante avanzata ieri dal PM Giancarlo Avenatti Bassi durante il precesso a Torino per il porto turistico d'Imperia. Per il costruttore romano l'accusa ha infatti chiesto 8 anni di carcere, 4 anni è stata invece la pena richiesta per l'ex direttore della Porto Spa Carlo Conti, mentre 2 anni e 4 mesi per Paolo Calzia, già presidente della stessa società. Il pubblico ministero ha invece chiesto la soluzione per l'industriale oleario Gianfranco Carli, che era stato amministratore della Spa. Altre richieste di condanna riguardano Domenico Gandolfo, un anno, anche lui ex amministratore della Spa, e un altro anno per il Vocanzia, che faceva parte dell'ufficio tecnico del Comune. Per Acquamare, che deteneva il 33% delle azioni della Porto d'Imperia Spa, il PM ha proposto come la pena confisca di 50 milioni di euro, più un milione di multa. Oggi, sempre al processo di Torino, l'avvocato di parte civile dei titolari di posti barca ha chiesto danni per 11,5 milioni di euro, mentre l'avvocato che difende gli interessi del Comune ne ha chiesti 20 milioni.